Lo so, a volte non riesci proprio ad addormentarti. Ti giri e ti rigiri. Pensi a quella cosa che una volta ti disse tua madre. Perché non bel uomo in un cuore che non mi rendo l'azzo? E ti chiedi, cosa c'è in me che non va? Sei tormentato da dubbi esistenziali? No problemi, partendo da qualche semplice accorgimento. Fissa un bersaglio preciso. Non provarci con più ragazze contemporaneamente. Se ricorda, ieri in Giorano mi hanno detto che sono molto bella. Anche a me l'ha scritto. A me l'ha scritto, diventa 3.47. È vero, la bellezza è soggettiva. Ma cerca comunque di essere bella e attraente. Ma non ti fisserei troppo sulla forma fisica. Uomo di panza, uomo di sostanza. Sei veloce nel capirmi, come uno shuttle che sta per allunare. No, mi dispiace, sono già impegnata. Le donne tendono ad essere attratte da uomini buoni. Si giri e ti offri sempre il tuo aiuto. Ricorda, se una ragazza è una commessa o una cameriera in un negozio, ti sta parlando e sorridendo solo perché è il suo lavoro. Non lo serve, posso fare qualcosa per lei? Non pensare che vuoi essere un tentativo per approcciarsi con te. Per cui, facci cauto. Le serve qualcosa? Si serve da solo. Lascia adesso. Per un upgrade, leggiti il libro Il ladro di giorni. Troverai alcuni consigli utili. Ne sveliamo qualcuno. Ricordati, fondamentale è che le tocchi i capelli. Perché se le tocchi qualsiasi altra cosa, ti arriva uno schiaffo. So, prendila dal vivo. Se ti dichiari con un bigliettino, c'è il rischio che ti risponda in modo ambiguo. Cerca di farla ridere, ma non ti preoccupare se la ragazza con cui stai parlando non ride. Se non è capace di ridere insieme a te, può essere che non si tratti della persona adatta per te. Non temere, non rifiuto. Farà parte del tuo percorso di crescita. A prescindere da come vadano le cose, pensa al presente. Lascia stare il futuro. Non è detto che il tuo miglior amico sarà sempre un ladillover e tu per sempre con lo sfigato. Si cresce e le cose cambiano. E se tua madre te le chiede di nuovo, rispondi sono bello e impossibile.